L'alchimia vegetale si basa su ciò che è il mondo meraviglioso dei vegetali. L'alchimia vegetale viene già racchiusa nell'alchimia grande, ma si specializza direttamente per andare a toccare più da vicino varie tecniche, vari incroci, varie costruzioni che possono essere fatti con i vari vegetali e quindi giungere mediante l'uso del mercurio vegetale a dei veri e propri miracoli. L'alchimia vegetale ha dalla sua parte tante frecce nella sua faretra, quindi al suo arco, ha la capacità di guarire, ha la capacità di far ascendere le persone verso l'alto a livello spirituale, ha la capacità di calmare, ha la capacità di ispirare, ha la capacità di fare entrare le persone.